Gruppo Bastia di Noale Qui c'è una rappresentanza rigorosamente in costume d'Eccoca Perfetto 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 Un applauso, grazie! Bravissimi! Ricordiamo che gli sbandieratori neppero come segnalatori durante il periodo di guerra. Servivano per comunicare con i repanti, con lanci, sventolini e messinti. Indicando così l'attimo giusto fizzio per l'attacco. Bastia di Norale, un applauso, grazie! Grazie! Applausi! 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 Grazie a tutti 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 Grazie a tutti